Signori siciliani, oggi parliamo ancora una volta di una vicenda che fa sorridere. Fa sorridere, fa indignare e ricopre di ridicolo la realtà agrigentina. E la ricopre di ridicolo proprio mentre agrigento si freggia del titolo di capitale della cultura. Come tutti sappiamo, agrigento con l'amministrazione di Franco Micichè, se non mando prima Franco Micichè in galera, come penso che avverrà, gestirà nel 2025, innanzi all'intera Italia e all'intera Europa, agrigento quale capitale della cultura. La seconda carica di agrigento è il presidente del Consiglio Comunale, il presidente dell'Assemblea elettiva cittadina, il Consiglio Comunale. Il signor presidente, secondo le leggi regionali della regione Sicilia, ha diritto ad un lauto stipendio, quasi 4.000 euro al mese lordi. Quasi 4.000 euro al mese lordi. E adesso leggiamo perché io ne chiedo le dimissioni. La lettera che vedete sul computer è già sul tavolo del presidente del Consiglio Comunale, che si chiama Giovanni Civiltà, una persona ben educata, una persona per bene, con cui ho avuto io, sino ad oggi, rapporti di grande cortesia e cordialità. Ma sono costretto dalle regole della morale e dall'amore per la città di agrigento e la dignità di tutti noi a chiederne le dimissioni. Richiesta dimissioni, presidente del Consiglio Comunale, a seguito rinvio a giudizio per reati di falso nel rilascio di titoli di studio. Adesso vedremo gli articoli di stampa. Vediamoli immediatamente. Agrigento Notizie Martedì 14 maggio 24 La notizia è di ieri pomeriggio 13 maggio 24 Corsi di studio ed esami fantasma 18 patteggiamenti e 12 rinvii a giudizio La procura di agrigento è andata con la mano abbastanza leggera. Sono stati molto teneri perché, a mio modo di vedere, questi signori meritavano una imbutazione di associazione a delinquere. Cosa hanno fatto questi signori? Tra cui, purtroppo, vi è Giovanni Civiltà, probabilmente costretto, ma doveva tirarsi indietro. Esisteva da agrigento un istituto paritario che si chiamava Atena, diretto da tale Angelo Sciandra, non so chi sia. Questo Angelo Sciandra, assieme a tutte queste belle persone che non conosco, tranne il presidente del Consiglio Comunale e Civiltà, facevano diplomi falsi. Mentre i nostri figli, per avere il diploma, devono giustamente frequentare le scuole, fare gli esami, sudare, lì bastava pagare la tangente ad Angelo Sciandra che poi pagava gli stipendi ad insegnanti che non insegnavano niente da quello che è venuto fuori dalle inchieste e falsificavano gli esami e rilasciavano i titoli di studio. Che bellissime cose, che bellissime cose. Questo ad agrigento, capitale della cultura. E allora cosa abbiamo? Trattenetevi, state ben messi sulla sedia perché vi è o da piangere o da ridere sganacchiandosi. Nella capitale della cultura, la seconda carica della città, Giovanni Civiltà, che prende da noi contribuenti quasi 4.000 euro al mese, rilasciava diplomi falsi, fingeva prove di esame false. Franco Vincichè, che ne dici tu, eh, Fra? Siccome lo faceva fuori dal comune, può fare accanto a te il presidente del Consiglio Comunale? Magari poi a Roma a celebrare la capitale della cultura nazionale, città di agrigento, vi portate magari Tano Gnam Gnam, così siete completi. Perché giustamente Tano Gnam Gnam dirà come? Io rimango qui e Civiltà a 4.000 euro al mese con l'accusa di avere falsificato la cultura, i diplomi, gli esami, la scuola, presiede il Consiglio Comunale. Caro Giovanni Civiltà, caro Giovanni Civiltà, sei una persona cordiale, garbata, cortese, e devi fare un gesto di dignità. Io capisco che tu sei un capo, un capetto, un capuzzello della più inguinata delle correnti politiche della città, quella di Riccardo Gallo, e abbiamo detto tutto, che ha come vice capo Carmelo Cantone, e ancora una volta abbiamo detto tutto, ma non sei solo uomo di questi due uomini, grandi uomini, Cantone e Riccardo Gallo, sei pagato dai contribuenti 4.000 euro al mese per fare il Presidente rappresentare il massimo organo elettivo, il Consiglio Comunale, e uno che sta dentro vicende come queste non può neanche rappresentare se stesso, consentimelo, ma io dico una cosa, io ho ricevuto accuse infamanti, accuse di estorsione, scusa l'espressione, ho tirato fuori i coglioni e ho risposto per le rime ai magistrati, dicendo mi state perseguitando, io sono innocente, queste sono le prove e le ho sbattute in bacio a tutti, se sei innocente fallo anche tu, convochi i giornalisti, sei la seconda carica della città, del capoluogo della provincia, della aggrigento grondante di storia, città fondata dai greci 580 anni prima di Cristo, chiaro, noi abbiamo 2500 anni di storia, 2005, non tre giorni, e possiamo nell'anno di aggrigento capitale della cultura avere te che ci rappresenti, che falsificavi esami e diplomi o dici sono innocente, e tiri fuori le prove dell'innocenza o saluti e te ne vai a casa, se vuoi rimani in consiglio comunale, ma di lato, di lato, quando vengono le televisioni nasconditi, a meno che non provi che sei innocente, tu non hai detto una parola, io sono un garantista, sino a quando non vi è stata la decisione del GUP e vi era solo l'accusa della procura, ci aspettiamo quello che viene, ma oggi la situazione è pesante, leggiamo gli articoli dei giornali Giovanni Civiltà, facciamoli conoscere i cittadini, 18 patteggiamenti, cioè 18 persone che con te facevano gli imbrogli hanno patteggiato e 12 rinvii a giudizio, il patteggiamento è con ogni evidenza una ammissione di responsabilità, si è conclusa così l'udienza preliminare scaturita dall'inchiesta che ipotizza un giro di esami e corsi di studio che non sarebbero mai stati sostenuti. Al centro della vicenda l'Istituto Paritario Atene e il suo dirigente Angelo Sciandra, sotto accusa altri 29 tra docenti e alunni che avrebbero concorso nella falsificazione dei registri delle presenze e dei verbali degli esami che sostiene l'accusa non si sarebbero mai svolti. qui ci sono i nomi di tutte queste belle persone Angelo Sciandra Costa Tortorici Cacciatore Fregapane Di Carlo Giovanna Sciandra La Piana Chiazzese con volente della commissione esaminatrice per l'ammissione al quinto anno all'Istituto assieme ad alcuni studenti avrebbero falsificato nell'agosto 2017 il verbale di svolgimento in quella data dell'esame di ammissione che secondo il PM non si sarebbe mai svolto Taibbi Di Carlo Giovanna Sciandra Costa D'Angelo Borsellino Fregapane Greco Costanza Valenti Puglia Civiltà Civiltà su indicazione di Angelo Sciandra presi dall'Istituto e l'atto di accusa del PM avrebbero attestato falsamente la presenza di docenti e alunni nel registro di classe cioè Civiltà ti rendi conto cosa facevi e di cosa ti devi difendere davanti all'opinione pubblica Civiltà perché ti pigli 4.000 euro mesi per fare il rappresentante degli agrigentini 4.000 euro al mese ti devi difendere di avere falsificato per un anno intero il registro cioè si fingeva si simulava che esisteva la scuola e non esisteva un cazzo questo è poi questi della procura non sanno fare niente perché hanno dimenticato che gli alunni pagavano i soldi non vi portavano uova di casa a questa scuola fasulla non vi portavano teste d'aglio per non dire altre teste in questa scuola fasulla vi portavano grana probabilmente tu lo facevi per il prundeggio a prestarti a questi imbrogli tanto c'era solo da falsificare carte si andava lì a voto misi e si falsificavano per tutto il mese si fingeva di fare lezioni per tutto il mese e ora rappresenti me rappresenti noi vogliamo leggerlo sul grand'angolo leggiamolo sul grand'angolo esami mai svolti e lezioni pilotate Castaldo dice pilotate le lezioni ma che c'è da pilotare erano fasulle in 12 finiscono a processo mentre altri 18 imbutati decidono di patteggiare una pena compresa tra 12 e 15 mesi di reclusione 18 hanno ammesso tra cui Angelo Sciandra lo ha disposto il GUP Giuseppe Micevi al termine l'udienza preliminare scaturita dall'inchiesta sull'istituto paritario Atena di Agrigento la procura di Agrigento lo scorso ottobre ha chiesto il rinviaggio di 30 persone tra preside insegnante e studenti le accuse a vero titolo sono di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale e falso in atto pubblico in concorso ci sarebbe poi da capire signori siciliani e ci vuole qualche parlamentare con gli attributi che cominci a fare le interrogazioni come cazzo ha funzionato la magistratura di Agrigento come funziona in questa inchiesta sono stati fatti gli accertamenti di polizia con videocamere e appostamenti nel 2017 e per fare gli accertamenti con videocamere e appostamenti nel 2017 la notizia di reato è stata scritta o nel 2016 o nel 2017 o nel 2016 o nel 2017 c'è da capire per quale motivo la richiesta di rinviaggiudizio arriva nel 2023 chi ha conservato queste carte consentendo ai delinquenti di poter continuare a delinguere per anni e anni chi ha fatto questo persone del quinto piano della procura di Agrigento è del tutto evidente in questa terra va ristabilita la dignità e la legalità è il primo luogo che bisogna ripulire e disinfettare è il palazzo di giustizia solo perché vi è un palazzo di giustizia dove le carte si nascondono per anni e anni e anni potevano accadere queste cose questa inchiesta nasce nel 2016 con evidenza e si arriva davanti a un tribunale nel 2024 otto anni dopo l'abuso d'ufficio è già prescritto ambiamente prescritto ambiamente prescritto l'associazione per delinguere perché chissà è un'associazione per delinguere questi signori con Angelo Sciandra si alzavano la mattina e facevano reati per soldi alla procura non ci hanno pensato Salvatore Vella quello pelato quello con lo sguardo molto lucido non ci ha pensato non ci ha pensato che si potevano i soldini tanti soldini non facevano beneficenza Angelo Sciandra e compagni vero Giovanni Civiltà però non ci ha pensato Salvatore Vella di imbutarli per il giro di denaro e di corruzione non ci ha pensato sono scarsi il loro codice penale di Salvatore Vella Luigi Patronaggio è una pagina sì e quattro no le pagine della corruzione della truffa dell'associazione per delinquere le hanno strappate e se le sono portate al cesso gli è rimasto il falso ideologico meno male meno male gli altri reati non ce ne sono accorti querelatemi signori Patronaggio Salvatore Vella perché vi dico che siete dei mascalzoni solo una procura di mascalzoni può inzabbiare dal 2017 al 2023 le carte di un'inchiesta di un'associazione per delinguere travestita da istituto scolastico privato siete peggio Salvatore Vella e compagni Patronaggio e Salvatore Vella di Giovanni Civiltà che ovviamente non si dimette Giovanni Civiltà giustamente diceva ma come Patronaggio che è peggio di mia non si dimette ma diventeri io e sotto questo profilo pensa di avere ragione e allora andiamo a concludere Franco Micicchè tu che ne dici tu che ne pensi può continuare a stare a fianco a te Giovanni Civiltà mandato a processo perché nella città capitale della cultura rilasciava titoli culturali fasulli facendo parte di un'associazione per delinguere impunità ecco come si moltiplica la delinquenza dei colletti bianchi ad agrigenti certo chi legge che chisti ne hanno combinati con la scuola privata quanti capelli hanno in testa si sono fottuti chissà quanti soldi rilasciando diplomi falsi per anni anni e anni si inzabbiano gli atti e quando si fa la richiesta di rinviare giudizio gli si fa una richiesta di rinviare giudizio con lo scondo di fine stagione niente associazione per delinguere niente truffa niente reati di soldi niente corruzione niente di niente solo il falso ideologico ma vedi che cose signori quando vedete Giovanni Civiltà per la strada diteglielo Giovanni non ci sentiamo rappresentati da te ti devi dimettere signori consiglieri comunali un sussulto di dignità lo capite che siete lì per lì con l'esplosione delle manette già perché questione di pochi giorni manifesti davanti al tribunale oltre che per il giudice Alfonso Malato divenuto il giudice Alfonso Moribondo per chi lo va incontrando in queste ore avranno anche quale oggetto questi manifesti le rubberie dei concerti le rubberie di Carmelo Cantone con la sagra del mandorle in fiore e dovremo andare a confrontare le spese della sagra del mandorle in fiore dell'anno scorso con quelle di quest'anno i preziari praticati e verranno fuori tante cosucce estremamente interessanti civiltà fai il primo gesto passeresti alla storia come un uomo di grande dignità vi è stato un altro presidente del consiglio comunale che travolto da vicenda giudiziaria ha avuto la dignità di non varsi chiedere le dimissioni di dimettersi da solo imitalo di non varsi di non varsi si si es